E ci siamo amici biscotti, io sono Andrea Ore e benvenuti in questo video, benvenuto in questo speciale, 700 iscritti E ci siamo amici biscotti, io sono Andrea Ore e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti su questo speciale 700 iscritti, let's go, let's go, ok Sì, speciale, 700 iscritti, ragazzi, ragazzi siamo arrivati a 700 persone su questo canale, porca miseria Siamo tantissimi, ma, 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 adesso si punta all'800, perciò ti ricordo, come in ogni video, di mettere un bel likeino E anche iscriviti al canale, così arriviamo agli 800 iscritti Comunque, 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 nello scorso episodio abbiamo farmato, cioè farmato Abbiamo raccattato un po' di polvere da sparo per questa TNT, let's go Abbiamo una TNT e sappiamo come usarla, sappiamo benissimo come usarla Comunque, allora, mi volevo solo prendere un po' di legnerello e anche un po' di ardesia profonda Perché mi serve tutta l'ardesia profonda che le nostre tasche possono darci Fatemi vedere se qua, qua ce n'è un altro pochino, let's go, perfetto Mi volevo prendere anche un po' di carbone lozza che ci serve e direi che Che dovevo starnutire, porca miseria, proprio mentre registravo direi che si parte per fare questo super speciale 700 iscritti e, eh, sì, mi sono già un po' preparato l'episodio Perché volevo fare una cosa gigaenormica e, appunto, cioè nel senso, per fare una cosa veramente gigaenormica Mi sono dovuto un attimino preparare un paio di cosine nel pioma delle ciliegie Che adesso non si vede ma pian piano ci arriveremo Dovrebbe essere tipo, non in là, ma in là, perché mi ricordo, dal ponte a destra Dal ponte a destra, dal ponte a destra, ok, e si va a destra, perfetto Mi sa che farò un piccolo tagliettino dove vi salto questa parte Intanto non mi ricordo se l'ho già detto, ma vi ricordo di iscrivervi al canale E lasciare un bel like per supportarmi e non perdervi nessuno dei miei gameplay E' Geronimo! Che poi ho notato solo ora che... C'ho un buffo storto Porca miseria, ma va bene così, va bene così Ok, siamo arrivati al bioma delle ciliegie Anche abbastanza velocemente, ma va bene così, va bene così Ragazzi, mille mille like per il buffo storto Porca miseria, non me ne era accorto quando ho iniziato a registrare Ecco perché poi mi prodeva il naso e mi è venuto da starnutire Ah, il mistero si è risolto Ok ragazzi, siamo arrivati al bioma delle ciliegie E... Let's go! Qua costruiremo un mega 700 Da commemorare questo 700 iscritti Perciò direi di avviarci molto molto velocemente Verso quella struttura che ho creato giusto per avere già un pro Le proporzioni, le dimensioni per fare appunto il 700 Perché se no farlo così dovendo guardare magari anche il secondo schermo Dove metto un 7 per ricordarmi come si fa Perché sì, io e i numeri su Minecraft O comunque scrivere i numeri su Minecraft non andiamo d'accordo L'ho fatto off camera in modo tale che dai A meno la cosa era un po' più diretta, un po' più frizzantina E' bellissimo questo bioma Devo ammettere che è sempre più bello E non vedo l'ora di fare veramente una bella super figa casa Qui, qui in mezzo ai ciliegi Comunque, ok, siamo arrivati dalla struttura Se non mi sbaglio gli avevo già messo anche delle scalette per arrivarci in cima Perché, ok, perfetto, perfetto Pian pianino saliamo verso l'infinito E oltre Molto molto lentamente Molto molto lentamente Ma va bene così Va benissimo così Dai signo, dai signo Perfetto Se non mi sbaglio qui avevo messo Let's go Avevo messo anche un po' di vetro A cuocersi Qua avevo messo un po' di materiali Ma naturalmente me ne sono dovuti portare altri dietro La TNT la mettiamo subito Subitissimo al sicuro E quasi quasi Per non saperne leggere e scrivere Mi farei quasi Già un po' di torcine Perché effettivamente mi sono scordato di illuminare la zona Perciò metti caso che spona roba brutta Almeno così siamo protetti dalla luce delle torce Ok, perfetto Anche perché poi effettivamente da lontano si dovrà vedere Perciò Dovrebbe essere ben illuminato Comunque, comunque Allora Si cuoceva Perché effettivamente la volevo fare con quello che si cuoce Ok Perfetto Questo è quello che si cuoce Questa no Ok L'ardesia profonda classica è quella che non si cuoce Questa è quella che si cuoce Direi perfetto Perfetto Iniziamo con Con gli zeri Quasi quasi inizio a fare subito gli zeri Sperando di non cadere Perché potrebbe essere un problemino Se cadiamo proprio adesso Ok Così Poi Un blocco qui E un blocco qui Perfetto Poi dobbiamo andare su di Su di 5 Perciò Allora Questo è 1 2 3 4 E 5 Perfetto Poi qui mettiamo un blocco di sabbia E poi andiamo in là di 3 1 2 E 3 Perufetto Direi peru E' anche un po' perfettissimo Qui saliamo Molto velocemente E naturalmente la finisco a metà dell'opera Porca miseria Ok Scendiamo giù Magari ci mettiamo qui per vedere come sta venendo Considerando che è al contrario Naturalmente Sì Mi sono dovuto mettere alla fine l'immagine del numero sotto Perché sennò facevo un po' fatica a farlo Qui comunque c'è veramente poco spazio di manovra Nel senso Effettivamente potevo Potevo fare la piattaformina un po' più larghina Ma va bene così Adesso Pian pianissimo Senza cadere Direi di fare una cosa un po' così Giusto per star sicuri di non cadere Ok E E Dai Dai Blocchettini Piazzatevi tutti Piazzatevi tutti Molto velocemente Ok Così abbiamo la nostra bella piattaforma Bella Larghissima Comunque Comunque Fatemi vedere un attimo l'immagine qua sotto Ok Dobbiamo fare una roba tipo Così Sì 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 direi perfetto E questo lo togliamo Poi Usiamo i blocchi di sabbia Che si tolgono molto velocemente Con la pala Fortuna che me ne sono portata una dietro Ok Così 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 E così Vediamo se da lontano È una cosa carina Ma direi che è bellissimo Ma direi che è bellissimo Direi che è bellissimo Ok E non questa Questa qui Direi di fare un altro zero molto velocemente Qui Così Così E poi ci alziamo di Uno Due Tre Quattro Cinque Perfetto Mettiamo un blocco di sabbia Mettiamo Queste Quasi quasi Lo togliamo subito Uno Due Tre Nice Scendiamo giù E vabbè Mettiamo questi qua Su uno Due Tre Quattro E cinque Perfetto Mangiamo la pagnottella Perché a cadere Ci facciamo un bel po' di male Ma direi che Per il momento I due numeri Sogno Perfetti Ok Così Poi facciamo così Giusto per evitare Di sprecare del materiale E poi Riprendiamoci Tutta questa sabbiolina Togliamo tutta la sabbia In eccesso E anche il secondo zero Ragazzi È fatto Let's go Ok Adesso Arriva la parte più divertente Perché Effettivamente siamo arrivati a Settecento iscritti Ma abbiamo superato Il cesecento Perciò direi di partire Con un bel Seicento Qui Ok Piazzami Questi qua blocchi Perché ho paura di cadere Ok Direi di fare Un Seicento Perciò partiamo sempre Con uno Due E tre Fatemi vedere un po' La figura Come me la fa gestire Perché effettivamente Mi sono dovuto mettere Un'immagine qua Molto carina In cui fa vedere Effettivamente Tutto lo sblocchettone Del numero 6 Che è molto Molto comodo Allora Noi considerando che lo vedremo Guardando in questa direzione Un tondo qui E la svirgolina qui Un tondo qui E la svirgolina qui Perciò L'angolo È questo E qui deve venire Una svirgolina così Perciò mettiamo questo Mettiamo altri Fatemi contare Quattro blocchi Uno Due Tre E quattro E dal terzo Uno Due Tre Fare una Sorta Di Ok Di chiusura In modo che viene Il 6x E anche un po' Fetto Poi Saliamo su Ok Da questo blocco Qui Noi dobbiamo fargli Fatemi vedere La scalettina così Perciò Così Così Poi Uno Due Tre E Piazzati E poi L'ultimo Speriamo di farcela con la sabbia Perché Effettivamente non ne ho così tanta Però Sì dai dai Dovrebbe farsi Molto easy peasy Lemon squeezy Nice Eh no Qui ci va Questo Ok Adesso possiamo scendere di sotto Spacchiamo tutta la sabbia In eccesso Ok Così dovremmo essere molto Facilitati Perché la sabbia Soffre la gravità Ok E E E Dammi Vabbè Rimani lì Rimani lì Blocchettino Puzzoloso Che lezza Che puzza Che puzza Che lezza Non Dove Dimenticato Di farmi il letto Nice Ok signori Il giorno è tornato Ed è arrivato il momento Di fare La super figo Figata TNT Ok Ok Però come l'attiviamo Prendiamo Prendiamo un pezzo di legno Facciamo così 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 E facciamo anche il pulsantone Ok nice Poi direi che lo voglio vedere bene Questo sei che esplode Perciò direi di fare Una cosa molto molto così Ok Prendiamo questo Petrisco E ci facciamo tipo Una mega piattaforma Che va verso Il lontano Mondo Di Minecraft Ok Perché non vorrei che Poi esplodessi anch'io E comunque Non dimmi che l'ho fatto storto Porca miseria Lo faccio immediatamente dritto E poi ritorno subito da voi Oh ok Ok L'ho raddrizzato L'ho raddrizzato Porca miseria Che epic fail Che Ma solo sul canale di Anderoreo Vedrete questi epic felissimi Allora direi di togliere Il blocco centrale Piazzare la TNT Ok Mettiamo qui la TNT E poi dobbiamo Velocessimamente scappare Perciò così Uno Aspettate 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 che metto Volevo Volevo anche registrare la cosa Ma mi sa che Vabbè Fare un frame Facciamo così Premiamo Via 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 Let's go Il 6 è sparito E adesso Si passa Con il 7 Let's go Speciale 700 iscritti Che emozione Allora Come prima cosa Direi di tappare Quel buco E visto che ho della pietra Qui a portata di mano Prendiamo Immediatamente Questa petrolla Subito qui Perfetto Perfetto Così Che bellezza Che godure Quando La gente si iscrive al canale Cioè nel senso Vedere il numero che sale È tipo un'euforia È tipo un'euforia Una gioia Immensa Perciò Ragazzi Mi raccomando Iscrivetevi tutti Al canale Ok Poi direi che Magari uso Questo qui Che è un po' più veloce Molto più veloce Molto più veloce Ragazzi Ok Togliamo Anche questi Qui Perfetto Qui naturalmente Ho perso il segno Uno Due Tre Quattro E cinque Perciò Quindi dobbiamo mettere questo Perché Devono essere Larghi cinque Gli spazi Per i numeri E poi direi di fare Immediatamente Il set Allora Fatemi un po' vedere Come si costruisce Un attimo Il set Mi metto qua lontano E guardo la situation Ok Allora Da qui Uno Due E tre Sì perché volevo fare Tipo una Aspettate Una cosa Così Che poi tagli Proprio Perciò Adesso saliamo su Perché se no Potrebbe essere un problema Magari Ho c'ho della pietra Sì c'ho della pietra Che è un po' più facile Da gestire Ho pochi materiali Vabbè Useremo anche questo Useremo anche questo Chi se ne frega Allora Poi dobbiamo andare su Di due E magari togliamo Immediatamente questo Direi che Sì ci siamo Ok Direi di andare Su di un altro Uno Perciò Così E così E poi magari Ci facciamo un blocco qui Per Tenerci un po' di prospettiva Sì direi che Anche questo è perfetto Poi Un blocco su Perciò Uno Due Sì E poi direi Di farci Tutta la piattaformina Del set Che sarà di Uno Due Di cinque Perfetto Uno Due Nope Tre Quattro E cinque Poi magari Visto che sono già qui Visto che sono già qui Illumino ben tutto Così è per Rufetta Sai Poi Togliamo tutta sta robaccia Che non ci Non ci serve più Poi 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 Avevo pensato anche un'altra cosa Super fighissima Ma mi sa che dovevo scendere Un attimo perché Effettivamente Mi sono scordato Di raccattare Un po' di legno Di ciliegio Perché I numeri così da soli Sono un po' bruttarelli Sono un po' bruttarelli Non si può scendere un po' più Velocemente Aghi aghi Facendosi male Facendosi male Va bene Va bene Non ho Un cacchio di Asche Di 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 Niente Porca miseria Adesso spacchiamo questo blocco Facciamo una crafting table Al volissimo Ok Non mi sono portato neanche un pezzo di ferro Ma Porca miseria Ci facciamo Vabbè Facciamo una cosa veloce Facciamo una cosa super veloce Facciamo così Così Let's go Perfetto E prendiamo un bel po' di legno di Marema se è lento Marema se è lento Signori È lentissimo Aspettate 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 Facciamo una cosa Facciamo una cosa Ok così Così Dovrei avere altri stecchini Ma certo che no che non li ho Ma certo che no che non li ho Porca miseria Io e i miei fail su minecraft Allora così Così Facciamo così Così E tu Levati Così 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 Ok forse così Dovremmo andare un po' più veloci Quale stavo spaccando Questo Perfetto Direi di prendere un bel po' di legno di querce In modo tale che Sì di querce Di ciliegio Perché voglio Incastonare i numeri Nel legno Che potrebbe essere una cosa Molto carina Molto carina e molto figa Da poter vedere da lontano Perciò Molto velocemente Prendo un bel po' di legno Let's go Molto molto velocissimamente Dammi il mio legno Porca miseria Dammi tutto il mio legno Tanto poi questi Li ripiantiamo Pian pianino Perciò Nulla andrà perduto Di questo Fantastico bioma E che bene Non so neanche Se poi ricresce naturalmente Penso di no Però lo scopriremo Lo scopriremo Soltanto vivendolo Perfetto Prendiamo anche questi A quanto legno siamo Fatemi un po' vedere Così Uno stack E qualcosina Mi sa che non ci basta Perciò Raccattiamolo in altro pochino E poi ritorniamo Sulla piattaforma Delle 700 iscritti Nice Ok ok dai Molto velocemente Tanto Tanto Sono veramente emozionato Per il fatto che Sono arrivato a 700 iscritti E non me l'aspettavo Perché Tipo ho avuto Un'impennata di iscritti Pazzesca Mostruosa Tipo la settimana scorsa E Veramente Grazie mille ragazzi Grazie mille Per tutto il supporto E per tutte le persone Che mi commentano Sotto i video E sotto i short Perché si ragazzi Faccio anche un sacco di short Perciò recuperateveli Tutti Tutti quanti Tutti Che sono uno più bello Dell'altro Ok Qua Facciamo Così Perfetto E ritorniamo di sopra Molto con calma Molto con calma Sì Non so quanto verrà lungo questo video Spero non troppo Anche perché Ho fatto Ho dovuto fare un bel po' di tagli Sarà divertente Editare il tutto Ma va bene così Va bene così Allora Volevo fare una cosa così Che forse potrebbe essere Ficcherima E cioè tipo appunto Incastonare il tutto Nel Nel legno Nel legno E poi con un materiale E poi con un materiale Magari diverso Che magari Troveremo più avanti Circondare I numeri Però non ho ancora trovato Il materiale adatto Che mi si addica Perfettamente Perciò Quando lo troverò Ve lo farò vedere E ve lo scoprirete Insieme a me Let's go Allora Qui 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 Il 7 sicuramente Sarà il più difficile Da completare Perché effettivamente È quello che ha Più Più buchi Qui dobbiamo salire un pochino Qui dobbiamo salire un pochino Ok Perfetto Così 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 E così Riscendiamo di nuovo giù Dai un bacio A chi vuoi tu Perfetto Poi Andiamo dal 7 E dobbiamo Oh qui Mi ero dimenticato Questo qui Va bene Ok Da qui Dobbiamo mettere Tutti i blocchi Di legno Ok Magari qua Posso salirci sopra Magari facciamo una cosa Fu Facciamo No effettivamente Quello poteva rimanere lì Perché Così 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 Non cadiamo lì sotto Così Dovrebbe essere Ben incastrato Let's go Ma sta arrivando la notte Perciò aspettiamo Un attimissimo Il giorno Ragazzi Devo ammettere Che è venuto veramente benissimo È veramente Fantastico Manca forse un po' di bordo Di un qualche colore Magari trovo della lana bianca Per contornare il tutto Forse magari metto tutto Legno rosa Attorno e dentro Della lana bianca Ma devo dire Che questo Sette Zero E zero È fantastico È tutto grazie a voi Come in ogni video Ti ricordo di lasciare un bel like E iscriviti al canale Per non perdere nessuno dei miei gameplay Ci vediamo al prossimo episodio E ciao ciao Amici biscottoni E iscriviti al canale